Andiamo, Giancarlo Giorgetti, presidente del congresso, Giancarlo Giorgetti, presidente di uno dei congressi più difficili della storia della Lega, com'è stato? No, a me non mi è sembrato un fatto difficile. La solita grande modesta di Giancarlo Giorgetti. Scherzi a parte, qual è il segnale politico che passa da oggi? Il segnale politico che, come secondo me ha detto bene Salvini, parte la battaglia per due indipendenze, da Roma e da Bruxelles. E in questa battaglia non saremo soli in Europa, ma soprattutto, lui non l'ha detto esplicitamente, ma quando ha citato il Vangelo, figlio del prodigo, abbiamo bisogno che tanti figlio del prodigo del nord, che in qualche modo in questi anni non ci hanno dato niente, ci diano retta per arrivare all'indipendenza. Ha detto subito, farà parte della mia squadra principalmente Giancarlo Giorgetti, l'unico nome che ha fatto? Non lo so, non lo so, io se servo, se gli servirò sono a disposizione. Grazie Giancarlo.